In occasione della commemorazione dei defunti il prossimo 2 novembre, la Terra Ambiente ha messo in campo misure straordinarie per permettere al sistema cimiteriale terramano di consentire di celebrare al meglio la ricorrenza, da sempre molto sentita con la consuetudine di visitare i propri cari al cimitero. Va ricordato che dopo diversi anni il cimitero monumentale di Cartecchio è tornato totalmente fruibile e aperti senza limiti, padiglioni, le cappelle e tutti gli spazi del cimitero danneggiati dal sisma del 2016, oltre ad essere stata totalmente riqualificata la caratteristica porta d'ingresso. È totalmente fruibile il cimitero di Cartecchio, abbiamo ripristinato anche l'accesso al cimitero che è tornato in tutta la sua bellezza, anche per restituire decoro e dignità al cimitero nel corso di quest'anno. Stiamo lavorando con l'assessore Cavallari per potenziare il numero dei loculi all'interno del cimitero e riprendere un percorso che si era interrotto più di 15 anni fa, a causa di una serie di errori che furono commessi. E contestualmente è partito il piano di ricostruzione, rigenerazione e riqualificazione di tutti i cimiteri frazionali. Abbiamo approvato in giunta 15 delibere relative a 15 cimiteri, quindi a tutti i cimiteri del nostro territorio, con l'obiettivo appunto di restituire decoro, dignità, sicurezza, ovviamente accompagnato anche al potenziamento dei loculi all'interno dei cimiteri delle frazioni. Il Comune di Teramo e la Team gestiscono, oltre al cimitero cittadino monumentale, i 15 cimiteri frazionali, tutti interessati da una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, di pulizia e taglio dell'erba. Inoltre in questi giorni a sostegno dei tanti cittadini che si recheranno i cimiteri ci sarà anche la presenza delle associazioni di protezione civile. Sì, laddove necessario ci sarà il sostegno anche della protezione civile, ma soprattutto della terra ambiente che sta gestendo i cimiteri in modo assolutamente degno e rispettoso appunto del luogo, dei luoghi che abbiamo restituito la nostra collettività ma su cui dobbiamo fare ancora tanto. Perché sulla pianificazione dei cimiteri nella nostra città è rimasta per tanto tempo troppo indietro, è partita nel corso del primo mandato una programmazione che è stata legata anche alla ricostruzione, questo secondo mandato sarà il mandato del potenziamento del patrimonio cimiteriale della città.